Sta per arrivare la circe del teleschermo, bella e spietata come non mai. È la prima volta che appare nella nostra televisione in Italia. E parlo di lei, naturalmente avrete immaginato chi è. È lei, la donna fatale degli anni Ottanta, Joan Collins! Ciao, benvenuti! Grazie! Sono molto felice di vedere te! Sono molto felice di vedere te e tutti questi fan entusiastici! Ha detto che è molto felice di vedermi e di vedere questi fan così entusiasti! Le domanderò come prima cosa perché le donne l'ammirano così tanto e forse perché vorrebbero essere belle e spietate come lei. The first question is, why do women admire you so much? Do you think that they would like to be beautiful and merciless as you are? I think women like me because I always get what I want, and you know! Dice, forse le donne mi amano tanto perché io sono riuscita ad avere quello che voglio, come io so. I don't know a lot about you, veramente io non so molto di lei. But what is the thing that you have got and you are proud of it? Qual è la cosa che hai ottenuto e di cui sei assolutamente orgogliosa? The thing that I've got that I'm most proud of, my three children, I suppose. Dice, io credo che la cosa che mi fa più piacere di poter aver ottenuto nella mia vita è i tre figli che ho. Yes, and talking about men. Oh, were we talking about men? I thought we were talking about children. No, well... Let's talk about men for a change, yes. I knew we would get all the subjects. Dice, io devo parlassimo di bambini, ma adesso parliamo di uomini. Gli uomini vanno pazzi per lei, ma io vorrei capire da John Collins qual è il tipo di uomo che le piace di più. Men go crazy about you and you know it. Yes. But what kind of man do you go crazy for? Live ones. Dice, mi piacciono gli uomini molto vivi. Rich ones, ricchi come, let's say, Gianni Agnelli. I don't know him. Non lo conosco. But rich men? I don't like rich men because they think that they can have too much control over a woman. Ma and, per esempio, famous, le piacciono gli uomini famosi like Mastroianni or Fellini? Yes, I love Mastroianni. I think he's wonderful. Dice, mi piace molto Mastroianni, penso che sia meraviglioso. From Dolce Vita and Fred and Ginger and I saw him recently in a clip of a new film that he's done and I want to see this very much. I don't need to come yet to America. Dice, ho visto anche l'ultimo film di Mastroianni, lo sto seguendo dagli inizi e quindi mi piace moltissimo. Chissà se le piacciono i macho men. Do you like macho men? Back to men again. No, not really. You mean like Rambo? Sì, Rambo, questa serie. No, I don't like i macho men. No, I like men with a good sense of humor. Dice, mi piace un uomo che abbia senso dell'umorismo, visto che lei è inglese, è sensibile. Good conversationalists. Che si possa, col quale si possa conversare piacevolmente. And good looking. E anche belli. We have seen the two boys that help you to come into the stage. Yes, I noticed them. Dice, sì, li ho notati. Antonio e Roberto, avete fatto colpo su Joan Collins. Do you like Lello Arena? He's my partner in the show. Hello. Lello, how do you say that? Lello Arena. Arena, sì. Facciamo lo show insieme. Raffaella Carrà show. Lei e Raffaella Carrà, io sono show. No, vabbè. Comunque, no, volevo dire che mi stavo per proporre perché sono proprio il ritratto ideale. Non sono potente, intelligente, così, così. Non sono potente. He wanted, he is saying that he wants to propose himself to you because he's not powerful. Poi, non sei? And he doesn't have very big muscles. Non ha grandi muscoli insieme. Non sono macho. And he doesn't have very much money. Non ha soldi? No, 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 no. Non ha soldi? No, 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 no. No, questo è di Sartorini, non è mio. Yes, this doesn't belong to him. È perfetto. È perfetto. Ok, we have a date, you and I. Thank you. I'd like to see it.